La prima importante occasione da gol coincide con il ventitreesimo minuto, la Crea Silla Fode, il cui suggerimento per i compagni di squadra cade tuttavia nel vuoto. Va decisamente meglio sul fronte degli assist al trentaseiesimo minuto, quando Arduini mette a frutto quello di Origlio. Follonica-Gavorano 1, Atletic-Carpi 0, Re Ombra inaugura una lunga sequenza di interventi provvidenziali e riesce a dire di no per ben due volte a Villanova. Con quest'ultimo che risulterà alla fine, quella che al sessantunesimo blocca una conclusione di Villanova. Gerimento in verticale a pelo d'erba di Losicco per Origlio, Tigani non deve far altro che appoggiare la palla in rete, Follonica-Gavorano 2, Carpi 0. Finisce 2-0 per il Follonica-Gavorano che dunque incontrerà in semifinale la vincente della sfida tutta lombarda tra Caronnese e Virtus Ciserano-Bergamo.